ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it nello scorso tutorial avevamo visto come iniziare una color correction secondaria attraverso il diciamo lo strumento i parametri legacy se vogliamo chiamarli così del pannello colore lumetri abbiamo visto con hsl secondario come sia possibile scegliere un colore selezionare un colore e poi andarlo andarlo a modificare in maniera selettiva quest'oggi vedremo come vi avevo già annunciato un nuovo strumento introdotto da adobe premiere nel 2019 chiamato curve ma in realtà non è uno strumento nuovo in sé lo strumento curve perché già nelle versioni più diciamo datate di premiere è sempre esistito lo strumento curva rgb che ci permette chiaramente di modificare i pixel dei canali r per rosso g per green quindi verde b per blu ok è uno strumento questo classico per esempio possiamo togliere un pochettino di tonalità azzur blu possiamo togliere anche un pochettino di verde non so possiamo dare un pochettino di rosso ecco questo è uno strumento che però è sempre esistito in adobe premiere sotto varie forme diciamo così la novità introdotta nel 2018 riguarda questo nuovo questa nuova voce questo nuovo parametro che si chiamano curve saturazione tinta che cosa sono queste curve saturazione tinta apriamo ho già fatto un tutorial l'anno scorso quando questa novità è stata introdotta quindi se volete maggiori dettagli su questo su queste curve andate su www.fabiambrosi.it cercate color correction 2018 credo che vi esca l'articolo dell'anno scorso quindi vediamo come funzionano questi strumenti visto che in fondo questo è un corso base e per completezza parliamo un pochettino anche di come funzionano queste curve introdotte l'anno scorso cominciamo con tonalità versus saturazione che cosa vuol dire vuol dire che io con questa prima curva posso controllare la saturazione non di tutta l'immagine ma di solo i pixel che rientrano in un determinato range di colori ipotizziamo che io abbia voglia di desaturare tutti i colori del verde del rosso del giallo come devo fare clicco sul primo punto che voglio sul punto di partenza via voglio iniziare dal rosso clicco sul verde clicco in mezzo questa curva vedete che appare una riga verticale che mi indica che se io tiro verso il basso tolgo saturazione se vado verso l'alto aggiungo saturazione e vedete che ad essere influenzati da questa modifica sono solo i pixel che vanno appunto dal rosso al verde ora non vi fate ingannare da questo tetto che è rimasto ancora saturo perché questa chiaramente non è una curva rigida che di punto in bianco crolla ma è una curva quasi sinusoidale quindi scende e poi risale quindi chiaramente le tonalità che sono sul rosso hanno ancora un po di saturazione volessi essere un po più drastico aggiungo un secondo punto tiro giù stessa cosa vale per il verde aggiungo un secondo punto e tiro giù e vedete che di fatto solo i colori che vanno dal verde al blu all'azzurro all'azzurro al blu al rosa sono rimasti saturi hanno quindi informazioni di colore che io però posso per esempio aumentare nessuno mi viva di continuare a color correggere dico che questa seconda porzione di immagine di colori meglio ancora devono essere molto saturi non ha molto senso ma ecco è questo quello che posso fare quindi io con pochi clic del mouse senza duplicare effetti senza fare maschere che comunque vedremo tra poco ho potuto fare una buona color correction desaturando determinati colori e chiaramente aumentando la saturazione di altri colori fantastico doppio clic su questa curva per ripristinare la situazione originale le altre curve fanno un po la stessa cosa solo che invece di mettere a confronto la tonalità con la saturazione qui per esempio viene messa in confronto la tonalità con la tonalità che cosa vuol dire vuol dire che se io questo cielo non mi piace molto la tonalità di questo cielo come prima inserisco due punti per delimitare il range di colori che voglio selezionare se clicco in mezzo vedete che appare appare una riga verticale arcobaleno vuol dire che alzando il puntatore del mouse andando verso l'alto viro i colori selezionati verso il verde vedete ho un cielo molto spaziale così al contrario andando verso il basso viro i pixel selezionati verso il rosso verso il rosa che così via quindi è la stessa cosa che abbiamo visto prima solo fatta con la tonalità invece che con la saturazione doppio clic sulla curva e andiamo avanti abbiamo tonalità versus luma è un po la stessa cosa è non avete capito come funziona il giochino selezioniamo i pixel che voglio modificare questa volta invece di andare a modificare la tonalità o la saturazione modifico la luminosità vedete io sto abbassando la luminosità dei pixel verdi ok o posso aumentarla andiamo avanti abbiamo ancora luma versus saturazione è un po qui è leggermente diverso ma il principio è lo stesso la riga che vediamo è una riga di luminosità dal più dei pixel più scuri ai pixel più più chiari e il secondo parametro è la saturazione cosa voglio dire voglio dire che io voglio desaturare per esempio tutti i pixel troppo luminosi ok vado qui e vado a desaturare tutti i pixel che sono troppo luminosi lasciando saturi colore solo i pixel i pixel più scuri non c'è una regola di utilizzo questo è a seconda delle vostre necessità scendiamo ancora abbiamo saturazione versus la saturazione il principio è lo stesso dai pixel meno saturi quindi in bianco e nero diciamo ai pixel con più quantità di colore no qui forse lo vedremo un po meno perché la saturazione è uguale a tutta lì a tutta l'immagine però ipotizziamo vediamo se funziona di voler si desaturare solo i pixel che avevano meno informazioni di colore ecco che io ho praticamente spento l'azzurro del cielo ok ha fatto un po il contrario di quello che avevamo fatto prima perfetto nel prossimo video tutorial vedremo invece come funzionano le maschere perché non sempre queste curve possono aiutarci a volte non ci sono di aiuto e dobbiamo utilizzare quelle che vengono appunto chiamato maschere chi utilizza photoshop già più o meno può aver capito di cosa sto parlando ma ne parleremo nel dettaglio nel prossimo video tutorial vi aspetto vi ricordo però come sempre www.fabioambrosi.it dove troverete gli articoli di queste video lezioni e se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi video tutorial ciao e grazie mille alla prossima